Sto convinto e credo che è un bel segnale da una squadra, da una società che non mola perché oggi è stata una partita su offerta difficile contro una grande squadra. Prima di tutto dobbiamo dare valore a queste sei vittorie consecutive e a questo pareggio perché ci sta a dargli valore, non tutte le partite sono meravigliose come quella della Roma, la di oggi abbiamo avuto di soffrire, alla fine abbiamo fatto questo pareggio che si continua a fare punti e adesso già puntiamo alla prossima. Se ti dico la verità era molto comodo con la squadra vincente ogni partita, se vediamo sono uno che crea tanti gol, non mi manca segnare, sto a creare tanti assist, sto a creare tanto gioco per la squadra, tante arrivate nelle aree, quindi sapevo che qualche giorno arrivava il gol. Quindi sai che il calcio uno si deve divertire, è quello che vedo nella squadra adesso, iniziamo le partite, si vede un calcio diverso, dopo entra Samarjic, Stuku Pereira, si vede la sensazione che la squadra si diverte anche con questi episodi e questo va per sopra del gol dell'assist.